E' il turno di Emanuela Mazzarro Mazzarro Umberto, ritorna al secondo piano Tra l'altro compie 11 anni oggi questa signorina pianista Un applauso e tanti auguri Emanuela eseguirà un brano intitolato For You Scritto tra l'altro da lei Incredibile, questi ragazzi così piccoli e così talentuosi Un applauso e poi siamo pronti Un applauso e tanti auguri 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 Un applauso e tanti auguri